mattarella non parlava al parlamento della diciottesima legislatura parlava al parlamento della diciannovese a quello che sarà e come dire mette le mani avanti mette paletti non a draghi che questi paletti riconosce benissimo non al pd che di questi paletti è interprete ed entusiasta difensore ma a un eventuale governo di tutt'altro diciamo apparentemente di tutt'altro orientamento un governo futuro che esca dalle prossime elezioni che abbia un fumus di atteggiamenti eccessivamente filo russi e che abbia un fumus di come dire scetticismo verso i benefici effetti della unione europea e dell'euro in particolare ecco e verso questo governo futuro che mattarella ha detto non vi permetterò di spostare gli assi fondamentali della politica italiana che vi piacciono o no sarebbe comunque estremamente difficile spostarli perché sono assi fondati sopra rapporti di forza talmente squilibrati che non credo vi sia una lontana possibilità di sottrarvi ci sono mille modi per essere atlantici e ci sono molti modi per essere europeisti e tuttavia sono tutti fondati sui rapporti di forza rapporti di forza che oggi vedono il nostro paese assolutamente non in grado di far valere un proprio soffio di volontà autonoma e di sovranità il messaggio potrebbe essere anche tradotto così sì è necessario tornare alla costituzione la quale dà centralità nel processo politico come ovvio al parlamento se però non crediate che il processo politico benché con una rinnovata centralità del parlamento sia in grado di fare alcun che che non sia un miglioramento delle condizioni non non positive nelle quali viviamo oggi per sotto una vasta serie di punti di vista ma cambiamenti strategici no non sono più nella disponibilità della nostra politica vorrei sottolineare che non lo sono mai stati in realtà da quando nel 1945 abbiamo perduto la guerra e diciamo che una volta non ci venivano ricordate con tanta frequenza le nostre impossibilità ma queste impossibilità erano tranquillamente note a tutti a onore della del certo politico democristiano va detto che all'interno di una difficile situazione data tentavano con tutta la furbizia della quale quando vogliamo siamo capaci di interpretare i vincoli diciamo così oggi si come quei vincoli uno almeno di essi perché il vincolo atlantico francamente è un'altra storia ma sono uno di essi cioè il vincolo dell'euro più più che dell'unione europea ha prodotto diciamo per essere eufemistici qualche disagio fra i cittadini italiani diciamo dai tempi di monti in poi ecco è necessario ribadire che questo disagio non può portare al non può andare al di là di determinate soglie e non può in ogni caso portare a nessuna trasformazione radicale del nostro del nostro modo di stare in europa ecco tristemente questo penso sia il significato profondo di quel messaggio che è un messaggio anche di verità per certi versi non è non è che ci sia stato una una mistificazione un messaggio di verità di realismo come ovvio un'esortazione a che l'italia recuperi su determinati fronti rispetto ai quali è effettivamente debolissima perché qui è stata nominata la sicurezza del lavoro e il precariato ma io sarei anche un attimo più radicale e direi la situazione di subalternità complessiva che il lavoro ha nei confronti del capitale lavoro precario non precario rischioso non rischioso ecco ora tutto ciò è vero con tutto ciò bisogna confrontarsi una parte di questi problemi possono ancora il nostro potere una parte poi non è detto che ci riusciamo è chiaro che se prendiamo i soldi a prestito li dobbiamo restituire il problema era che vi fu un tempo in cui non c'era il bisogno di prendere soldi a prestito perché ce li potevamo stampare in casa è chiaro che al di là di certe deviazioni di rotta non si può andare meno se ne fanno le deviazioni meglio è questa questo è il messaggio di mattarella quanto poi la centralità del parlamento nel senso proprio io vorrei sapere come si fa a restaurarla in un contesto in cui lo strumento fondamentale di quella centralità cioè i partiti sono letteralmente inesistenti se qualche cittadino andrà a votare le prossime elezioni se non faranno tutti come hanno fatto a rome il parlamento ma è un caso che è un caso riesca a produrre una maggioranza perché quello che è successo per la rielezione di mattarella è espressione della debolezza del parlamento dei partiti del sistema politico è espressione di un parlamento che non ha una maggioranza proprio interno quando si quando si fronteggiano due blocchi nessuno dei due blocchi ha la possibilità di essere maggioritario la e questo è dovuto al fatto che vi è un corpo centrale che il partito di maggioranza relativa che è alla merce di chiunque gli prometta che la legislatura non finirà anticipata ecco un parlamento più rappresentativo più vicino a quello che pensa il popolo oggi forse potrebbe essere un parlamento in cui una maggioranza si riesce a formare una maggioranza politica non una maggioranza di quasi unità nazionale e perché non c'è altra maggioranza allora in quel contesto se quello fosse stato il contesto non ci sarebbe stata la rilezione di mattarella ci sarebbe stato uno non lo schieramento maggioritario che imponeva il proprio candidato come è successo ripetute volte nel corso della storia repubblica per cui il per ridare centralità il parlamento bisogna che il parlamento sia a rappresentativo e questo questo è qualche cosa che spetta spetta al ai cittadini renderlo tale insomma e che sia rappresentativo di e che si la volontà del popolo venga filtrata da una legge elettorale tale per cui si sia almeno possibile formare una maggioranza l'idea che dobbiamo perseguire è che va studiato con estrema attenzione qual è il sistema elettorale non più atto a fermare la presunta tremenda avanzata della destra ma qual è il sistema elettorale più atto a formare rendere possibile una maggioranza funzionante in parlamento e a quel punto se i partiti ritroveranno un po di capacità politica si può cominciare a dare risposta a qualcuno dei problemi che abbiamo davanti ma certamente a quelli strategici no data l'ipotesi ovvia cioè del diciamo fortissimo ridimensionamento del movimento 5 stelle dato che il partito democratico non può salire oltre al 20 per cento perché le ztl in italia sono quello e non di più l'ipotesi era di lanciare contro la destra il centro il centro nebulosa di personaggi che sono in cerca di voti uno dei quali e renzi ma appunto oggi pomeriggio con rinvio a giudizio non solo di renzi ma di un sistema di potere cioè di boschi e lotti oltre che di renzi ho l'impressione che ci sia una un rallentamento di questa prospettiva cioè penso che chi sia più colpito a parte renzi naturalmente sia letta che vede venir meno una delle sponde sulle quali contava per fare argine rispetto alla destra perché insomma l'idea era facciamo un proporzionale si comincia col dire che lo facciamo la tedesca consola di sbarramento a 5 poi alla trattativa si fa il 3 e poi come poi vale per il maggioritario si formano delle coalizioni in sede elettorale che possono tranquillamente disfarsi il giorno dopo le elezioni e comunque sia buttiamo fra le ruote della destra questo anche questo ostacolo un bel po di centro poi ci alleiamo col centro ci alleiamo con quel che resta dei cinque stelle e e governiamo noi perché siamo è l'unica cosa che non dico sappiamo fare ma è l'unica cosa per la quale siamo stati messi al mondo ecco e se proprio proprio non ce la facciamo noi va bene chiameremo draghi questo è il lo scenario ripeto lo scenario che non fa i conti mai coi cittadini cioè col fatto che i cittadini ma lo votano poi calenda la votano poi la bonino primo e lo votano poi renzi secondo non fa i conti col fatto che davanti a delle indagini giudiziarie così devastanti al di là del fatto che sotto il profilo come dire formale la presunzione di innocenza è fondamentale naturalmente ma insomma sotto il profilo politico noi lo sappiamo il giudizio di condanna nell'opinione pubblica si forma subito io ho l'impressione che l'ipotesi centro sia un ipotesi assai poco praticabile non la destra possono perdere se le perde da sola sono affari suoi ma se ha un minimo di lucidità le vince con qualunque sistema elettorale per disarticolazione del centro e per impossibilità strutturale del pd di superare 20 questo è quanto nel senso che l'alternativa quello che ho detto è che i cittadini proprio non vanno più a siccome a roma l'88 per cento si è estenuto l'ultima volta a livello generale nazionale naturalmente non sesterà l'88 per cento noi noi emiliani siamo sufficienti per farne una percentuale nazionale migliore però se le se ci fosse qualche cosa di analogo a livello generale nazionale beh allora saremo a livelli di appunto polverizzazione di un sistema però stiamo attenti perché i poteri politico economici internazionali sovranazionali che ci hanno cooptato come soci di minoranza non vogliono nemmeno quello cioè vogliono che noi continuiamo ad esistere non vogliono vedere al posto dell'italia un buco nero perché ma certo perché gli fa comodo è troppo destrutturante noi non possiamo scomparire e non possiamo mutare e non possiamo mutare troppo il nostro profilo internazionale dobbiamo rimanere più o meno quello che siamo se riusciamo a darci una giustatina meglio per noi ma la cosa finisce lì cioè chi sta parlando con putin draghi no ma crono cioè chi chi ha uno status che tale che gli si possa riconoscere la dignità di stato sovrano con autorevolezza l'italia no l'italia in questo momento è terra di conquista è un paese che non sa quello che vuole e che forse non vuole più niente politicamente è un paese in cui si è capito presto che la politica nella sua forma tradizionale non cambia più le cose ecco la politica istituzionalizzata non cambia più le cose esiste una politica reale materiale rapporti di forza mai così smaccatamente evidenti come oggi ed esiste una politica istituzionale che non quella politica reale non la governa più i democristiani la governavano la politica reale a modo loro ma la governa c'è un ministro democristiano riusciva a dare una soprattutto nei primi anni della repubblica nei primi decenni della repubblica riusciva a dare un orientamento un orientamento pensate cioè detto in un altro modo lo stato riusciva a mettere le mani nell'economia quello che a partire dagli anni ottanti in poi abbiamo fatto è stato privare lo stato della capacità di intervenire sulle cose economiche sulla base del principio che oggi viene definito oggettivo e non ideologico sulla base del principio ultra ideologico che l'economia si è giusta da soli sulla base del principio che lo stato non sa fare nulla di economico e che non esiste alcun che come la giustizia sociale insomma l'armamentario aiechiano sostanzialmente ora tutto ciò è stato realizzato attraverso il vincolo esterno proprio attraverso il vincolo a quello servito il vincolo esterno a costringere l'italia a stare a quel gioco e il fatto è che quel gioco era fasullo è un gioco truccato perché l'economia non produce ordini non produce alcun tipo di e adesso che stiamo assistendo al fatto che l'economia non produce ordini ma disordine le persone gli italiani giustamente non credono più la politica istituzionalizzata e sostanzialmente si danno alla vocazione tipica degli italiani che giocare ciascuno giocare ciascuno per sé e tentare di mettere insieme il pranzo con la cena cosa non facilissima per larga parte del paese completamente ignorato dalla politica istituzionalizzata larga parte del paese in cui che sto io nel mezzogiorno due terzi delle donne sono disoccupate sono situazioni di disagio talmente profondo da spezzare il legame sociale noi ce le teniamo e pretendiamo anche che queste persone siano buoni cittadini di orientamento filogovernativo no non lo sono buoni cittadini non possono esserlo non lo vogliono essere e se si ricordano di andare a votare non andranno a votare per un partito di governo ma allora bisognerà spiegare loro che anche se votano per partiti che promettono senza avere la capacità di farlo promettono di cambiare radicalmente le cose bene questo non verrà consentito sull'embo preventiva perché non esiste una forza oggi presuntamente non lo era presuntamente anche sistema del peso della strutturazione del pc non esiste però c'è una convenzione discutendo preventiva non vi sognate di pensare che un altro mondo sia possibile il vincolo esterno è stata l'ultima invenzione di un ceto borghese italiano che si autodefiniva illuminato non provinciale non clientelare che aveva in odio i democristiani e i comunisti al tempo stesso anche se aveva in odio più comunista dai quali è rimasto spiazzato perché i comunisti hanno abbracciato entusiasti il vincolo esterno ma insomma un'invenzione di una borghesia che disperando dell'italia ha pensato che chissà poi perché l'europa del nord fosse migliore di noi e che dove per difenderci da noi stessi ci dovessimo legare a un carro altrui ora al carro tedesco noi siamo sempre stati legati nel corso della nostra storia non è che ci abbiamo fatto due guerre mondiali contro ma per pochi mesi per il resto della nostra storia a partire appunto dalla triplice alleanza noi siamo sempre stati legati al carro tedesco e sempre in posizione subalterna perché loro sono più numerosi più bravi ma certamente questa idea siamo stati meno legati al carro tedesco soltanto nei primi decenni della prima repubblica per il buon motivo che la germania è non c'era si stava riprendendo lentamente dal disastro che si era abbattuto su di lei giustamente ma appena si è ripresa i rapporti di forza sono rimasti quelli di un tempo andreotti voleva bene che le germania rimanessero due ma insomma quando si sono unificate quel peso si è scaricato sul continente sia pure europeo sia pure in forme meno nemmeno lontanamente simili a quelle del passato ovviamente ma insomma quel peso c'è lo stesso ecco anche se non è più il peso di una nazione criminale ma il peso di una nazione civile e democratica quel peso c'è a quel peso ci siamo appesi sperando che ne venisse la nostra salvezza credendo che un certo modello economico l'ordo liberalismo scritto dentro l'euro fosse davvero stabile come è stabile in germania ecco questo è stato l'errore di fondo perché la germania non è resa stabile dal marco la germania è stabile e quindi ha una moneta stabile grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Le strutture politiche di un paese dipendono dalla sua storia e non abbiamo potuto copiare la Germania dal punto di vista di tutti gli altri punti. Non è stato tentato, ma certamente noi oggi abbiamo la moneta tedesca sostanzialmente e una struttura italiana molto deteriorata, molto deteriorata, con tendenze centrifughe molto gravi, altro che quelle di Boschi, quelle erano sparate elettorali, propagandistiche, con malfunzionamento della pubblica amministrazione non più governabile. Insomma, abbiamo dei problemi gravissimi e la moneta di un paese invece che funziona come un orologio. Quella moneta chiede, obbliga, a cose che sapete benissimo, modellazione salariale, politiche deflattive, tutto quello che serve a far sì che l'economia sia stabile e orientata all'esportazione. Poca domanda in te, relativamente poca domanda in te, al di là della preferibilità di questo modello rispetto ad altri, tutto ciò è sopportabile se vi è una struttura socio-economica infinitamente diversa da quella italiana. Questa è la causa profonda di quello che stiamo attraversando, nel fatto che stiamo lavorando dentro una struttura economica per noi coercitiva, che produce problemi sociali gravissimi che non sappiamo governare. Questo produce o atteggiamenti populistici, o atteggiamenti antisistema, o disaffezioni. E questo deteriora la nostra democrazia. Uscirne non so come si faccia. Certamente cominciare a dirlo non sarebbe male. Cominciare a dirlo con la serietà e anche con la convinzione che questa è una situazione dalla quale non si esce in un attimo, dalla quale non si viene fuori urlando. Ecco, è una situazione della quale bisognerebbe chiedere conto a qualcuno, certamente, ma alla quale ci dobbiamo, non dico abituare, ma ci dobbiamo allenare, allenare per trarre dalla nostra storia e dalla nostra capacità tutto quello che si può trarre per non lasciarci andare. Ecco, questo è il punto. Perché quello che sta capitando, quello che viene chiamato normalmente crisi della politica e così, in realtà è un paese che si sta lasciando andare, che non ha più una direzione, che non crede più che sia indispensabile avere una direzione. questo è, perché non è diretto, non è diretto, appunto. Questo è il rischio più grosso, cioè il paese alla deriva. E questo ovviamente va evitato anche perché apre scenari incontrollabili, come capite. Va evitato perché ci meritiamo anche di meglio. Chi ha gli anni che ho io ha visto, ha anche visto un'Italia che, insomma, con la difficoltà che fa parte delle cose della vita, sia ben chiaro, l'età dell'oro appunto, io non l'ho conosciuta. Ecco, però ha visto un'Italia diversa, cioè un'Italia che aveva una direzione in entrambi i significati della parola. e adesso non ce l'ha in entrambi i significati della parola. Non è vero che questo è un governo forte, è un governo che non è per niente forte. Tanto è vero che ha bisogno dell'appoggio di tutti, tanto è vero che ha bisogno di avere come sponda il capo dello Stato, tanto è vero che ha bisogno di un capo dello Stato che ricordi a tutti quali sono le regole del gioco, come è vero. Non è un governo forte, è un governo che non sta decidendo quasi niente, è frutto di una dimozione e continua a rimuovere. E noi abbiamo bisogno di tornare a dirigere i nostri sforzi in qualche vero ragionevole e abbiamo bisogno di tornare anche a essere democraticamente diretti. dove democraticamente vuol dire da noi stessi, cioè della nostra rappresentanza, da un governo che sia espressione di un Parlamento e non di chissà che cosa. Tutto che chi ha i miei anni veramente ha nostalgia dell'Italia democristiana. Non perché fosse un'Italia nella quale specchiassi, ma perché era un'Italia che, anche se era lontanissima da quelle che erano le convinzioni personali di ciascuno di noi, se anche se era lontanissima, era palesemente un'Italia governata, che aveva un obiettivo, che era quello di entrare nella modernità. Ditemi voi qual è l'obiettivo di oggi. L'obiettivo di oggi è di gestire il PNR. Non scuote le anime, non motiva più che tanto. Qual è l'obiettivo di oggi? Tentare di portare a casa qualche cosa che assomiglia la democrazia in un contesto in cui i processi economico-tecnologici fanno di tutto per dimostrare che non c'è per nulla bisogno di democrazia. Che il mondo va avanti anche senza democrazia e forse è meglio dal punto di vista dei poteri che muovono il mondo. Questo è abbastanza demotivante e non ci meraviglia se i cittadini mandano il diavolo politici, intellettuali e quant'altro e non pensano soltanto, ripeto, mettendo insieme il pranzo con la cena. La situazione presente non può essere analizzata solo dal punto di vista del diritto costituzionale perché c'è dell'altro. Tra cielo e terra c'è dell'altro. è tutto, un immane flusso di poteri e di problemi investe la condizione esistenziale del nostro paese. Il livello della formalizzazione costituzionale è l'ultimo, ma sotto ci sono movimenti magmatici che non trovano più forze che li ordinino. Abbiamo un capitalismo di cui non siamo protagonisti, un capitalismo che è veramente rivoluzionario, nel senso che si rivoluziona continuamente, è fattore di instabilità ad altissimo livello. Per far sì che, appunto, le logiche del profitto, di questo si tratta, non siano le uniche, perché sono logiche distruttive per quasi tutti, non siano le uniche che governano la nostra società, ci vuole una politica forte. una politica forte che oggi non c'è. Io capisco, coloro che dicono, va bene, se il motore era nel Parlamento, in realtà il motore era nei partiti, comunque, il motore era nel Parlamento. Se il Parlamento non produce più volontà politica, allora inventiamoci di corsa un altro centro di produzione di volontà politica per tentare di arginare l'insensato meccanismo di mobilitazione del capitalismo. Solo che, da una parte, ciò non può avvenire, come dire, di nascosto. Non si può arrivare a un semipresidenzialismo di fatto, non ha senso. bisogna che ci sia la forza di fare una revisione costituzionale in grande stile. E poi, soprattutto, ricordiamoci che la revisione costituzionale di per sé non vuol dire nulla. Se non c'è un sistema politico complessivo funzionante, e di nuovo, sono solo i partiti che possono dare energia a questo sistema. se non c'è questo, il parlamentarismo declinante come il nostro, o un presidenzialismo inventato come quello a cui pensano non cambia in nulla il fatto che non c'è, non ci sia, non ci sarebbe energia politica sufficiente. Voglio dire, i paesi sudamericani sono quasi tutti presidenzialistici, neanche semi. e non è che siano molto brillanti quanto a performance politica, perché o manca il ceto politico, o manca la società civile, manca l'educazione alla democrazia. Di fatto, non risolve niente una riforma che si limiti a cambiare il centro di imputazione del potere se non c'è una riforma che produce nuovo potere politico. basta. Pensiamo alla quarta repubblica francese. La quarta repubblica francese crolla, tanto che de Gaulle disse quella famosa frase che il potere non lo si prende, lo si raccatta. Nel senso che non c'era più potere politico in Francia. Allora, lì c'è stata una riforma costituzionale, certamente, ma c'era un grande statista capace di dare vita a una formazione politica nuova, ma certamente radicata nei problemi reali della società francese, di una formazione politica di centro-destra, moderata, in linea con la tradizione francese, insomma, una cosa seria. C'è voluto un grande uomo e una grande capacità di mettere in piedi una forza politica radicata, non figlia di una fiammata come il Stato 5 Stelle, una forza politica che avesse la propria legittimità nell'essere piena di ragioni politiche, non piena di ragioni emotive antipolitiche. E soprattutto tutto ciò avviene sostanzialmente per caso, cioè non ci sono leggi che ci spieghino che se ci comportiamo in un certo modo necessariamente abbiamo la soluzione vincente di una crisi costituzionale. Il mondo è pieno di soluzioni perdenti. La Francia della Quarta Repubblica trovò una soluzione vincente, ma non, ripeto, solo perché si inventò un semipresidenzialismo nel quale peraltro il Parlamento ha un ruolo davvero modesto, ma perché si inventò la costruzione di un nuovo centro di energia politica che era il capo dello Stato e il suo partito. Io sarò più ottimista quando vedrò una soluzione di questo tipo in Italia, ma se ci fosse una soluzione di questo tipo, cioè se c'è qualcuno capace di costruirsi un partito radicato che risponde veramente a esigenze e anche un partito che si è in sintonia con la storia d'Italia, che è una storia di parlamentarismo, anche se lo statuto Albertino non era in senso stretto, non disegnava un sistema in senso stretto parlamentare perché non richiedevala che il governo avesse la fiducia del Parlamento. Di fatto la pratica costituzionale italiana fino dal costituirsi del regno unitario fu che i governi cercavano la fiducia del Parlamento. La nostra storia, tranne quella fascista, è la storia di un paese retto da regimi parlamentari. bisogna che troviamo il modo di dare nuova forza ai partiti che devono essere una cosa seria, ripeto. Assolutamente sì, assolutamente sì. La nostra disgrazia in questo momento è che il partito di maggioranza relativa non esiste. Chiudo dicendo quello che ho letto in apertura. Il partito di maggioranza relativa si è preso 34% alle elezioni, col 34% della democrazia cristiana governava per un'eternità perché sapevano governare quelli. Questo non esiste. Ecco, allora, inventare, restaurare, ricostruire un partito che poi sia questo partito inserito in un sistema parlamentare o in un sistema semipresidenziale è meno importante. La cosa importante è un centro di energia politica radicato nella società. che sia capace di dare una direzione politica, non una direzione semplicemente di consenso a ciò che viene deciso fuori di casa nostra. Una direzione politica. Ecco, questo è ciò che ci manca, questo è ciò che ci potrebbe dare una nuova spinta. Devo dire, si richiedono anche elementi casuali come appunto la presenza di personaggi politicamente outstanding, certamente, sì, la politica non è, non ha leggi, non ha regolarità costanti, è la contingenza che chiede continuamente di essere messa in forma. E noi sappiamo che ogni tanto è necessaria anche la personalità. Forse nel momento di oggi questa personalità non c'è e in ogni caso l'obiettivo di questa personalità dovrebbe essere quello non di fare i comodi propri come fece qualcun altro una ventina di anni fa, ma un obiettivo di dare di nuovo all'Italia un centro propulsivo di politica senza il quale esiste la decadenza. che può essere dolce e indolore oppure rapide e dolorose anche questo e qualche altra cosa ma siccome non l'auguro la decadenza a nessuno e mi piacerebbe poter campare abbastanza per vedere un rinascimento penso che senza un centro di energia politica ricostruito non faremo niente. Questo centro non può essere che un partito e adesso è un partito che prende molti milioni di voti perché dice cose credibili a molti milioni di italiani con l'agre per niente per niente